Direttore Azzarita, Giro di Boa, arriva a suo pareggio forse in atteso contro l'Atletico San Pietro in valle, però è stato bello il cammino che avete fatto, soprattutto emozionante perché siete partiti bene, poi avete avuto una lunga fase di rallentamento nel giorno d'andata, poi è stato bello comunque il rush fino alla fine, con un po' di affanno all'ultima giornata, però alla fine secondo me credo che sia andato bene. Credo che si possa essere abbastanza soddisfatti, è chiaro che siamo esigenti, vorremmo sempre di più, però alla fine ero un po' arrabbiato, mi aspettavo un finale con vittoria, da regalare anche come hai visto oggi, c'è stata la commemorazione di questo caro tifoso che ci ha lasciati troppo presto, e questi episodi poi ti riconciliano un po' con la realtà, ti fanno capire che alla fine ci sono cose molto più importanti, no, siamo soddisfatti, dai, potevamo sicuramente avere qualche punto in più, però onestamente il San Pietro in Valle forse è quello che può recriminare di più, dai, dobbiamo essere sinceri, hanno giocato un po' meglio. Senti tu come direttore nel ruolo che hai avuto quest'anno, hai lavorato tantissimo, io tra l'altro ti ho seguito passo passo, hai restito la squadra, l'hai modificata, l'hai dovuta correggere strada facendo, insomma un grande lavoro, oscuro, importante soprattutto, ma alla fine io dico che i risultati stanno arrivando. Ti ringrazio, io spero che i risultati arrivino a fine stagione, noi abbiamo un impegno importantissimo, la Coppa Italia, ci teniamo veramente moltissimo, qualche ragazzo ci ha lasciato strada facendo, qualche collaboratore ci ha lasciato strada facendo, però se fossero rimasti senza un gruppo non avrebbero vinto nulla, e la squadra è rimasta, il gruppo è rimasto, bisogna guardare avanti, il lavoro che io ho fatto non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con il supporto della società, dei collaboratori, degli allenatori, quindi è una cosa che devo condividere con loro per il momento, per questa prima parte del campionato, non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo continuare sulla strada tracciata nelle ultime, diciamo, 7-8 partite. Senti, è vero che lavorerete sodo anche durante le feste, perché oltre la ripresa e il campionato c'è una Coppa Italia dove ci tenete tantissimo. È un impegno importantissimo, assolutamente non possiamo abbassare l'attenzione, ci teniamo noi, come ci tiene sicuramente il Venafro, siamo in credito contro il Venafro, insomma in campionato un rigore nettissimo che non ci è stato dato, a ritorno, diciamo, la seconda partita in Coppa Italia, l'andata, un rigore a favore loro che secondo me non c'era assolutamente, sono episodi che nell'arco di un campionato si compensa, con tutta onestà, devo dire, forse c'era un rigore per loro e noi siamo stati graziati. Quindi nell'arco di un campionato questi episodi, sicuramente in buona fede, perché credo alla buona fede degli arbitri, si compensano. Ce la giocheremo tutta e speriamo di avere uno stadio pieno. Invito tutti i tifosi, oltre a cogliere l'occasione per fargli gli auguri, invito tutti i tifosi a venire in massa il giorno 10 gennaio, in questo stadio che deve essere una bolgia, positiva ovviamente, senza danni, senza nessun problema, per aiutarci ad arrivare in finale.